Io ero molto attiva nel campo della sicurezza, quindi ogni settimana facevo un incontro in prefettura con il prefetto rappresentante della regione e della provincia e il mio vice e tutte le forze dell'ordine e ogni giorno avevo la situazione aggiornata, quartiere per quartiere, via per via, di quali erano state le criticità e quindi le attività criminali nelle diverse vie. Questo mi permetteva tutte le sere di parlare a tarda sera con il mio comandante di polizia per programmare la giornata dopo. Io credo che sarebbe bene rivolgere al sindaco Sala questa domanda. Quanti incontri fa in prefettura? Quanto controlla la situazione delle diverse strade? Quante volte al giorno parla col suo capo della polizia? Perché queste sono risposte che i cittadini milanesi meritano.